E' stato ucciso l'uomo che ha seminato il panico e la paura all'interno di un grande magazzino di Walmart ad Amarillo, in Texas, negli Stati e in America. Propriamente il Presidente, il nome Barack Obama, mi ricordo, stava parlando in diretta televisiva alla nazione della strage di Orlando. Tutti gli ostaggi sono liberi, l'uomo pensate che era un'ex dipendente del liquor store. In evitare la zona di Walmart, così si leggeva nella campitta della Municipalità di Amarillo, in Texas dove si è svolta una sparatoria, tra un uomo che aveva assaltato un grande magazzino e la polizia. Alcuni media però valerebbero prendendo in ostaggio diverse persone. Ringrazio per l'ascolto e il video termina qua, dunque è una situazione che possiamo considerare come terminata nonostante la paura. e la terribile situazione di negozio che hanno vissuto verso le persone.